Ciao a tutti e bentornati su Cesco Channel. Allora, in questa puntata cominceremo una cosa molto importante, molto importante per me, che sono un collezionista. Dunque, in edicola è uscita da Hachette questa collezione, la collezione della Lamborghini Miura. Allora, io adoro le Lamborghini, le Ferrari, comunque le grandi case automobilistiche che hanno fatto la storia dell'auto sportiva. Questa riproduzione della Lamborghini Miura, devo dire che ha qualcosa veramente di speciale. Oltre ad essere in scala 1.8, quindi la bella bestia, come si suol dire, è anche equipaggiata, scusate, di un sacco di ulteriori funzionalità. Ovviamente, oltre a essere un modello di automobili molto grande, ricco di dettagli, quindi con la possibilità di poter vedere quelle che sono le griglie, per esempio, sul retro dell'automobile, oltre che la possibilità di andare a vedere quelle che sono le particolarità del motore, eccetera, eccetera. Ci sono anche funzioni elettroniche, quindi le luci si accendono, gli stop si accendono, gli indicatori di direzione si accendono, c'è una luce di cortesia interna quando si apre la porta. Insomma, un po' di cosine che al sottoscritto fanno veramente piacere. Poi voi direte, sì, però ti costa un occhio della testa, come dire, raccoglierla in fascicoli, può essere, nel senso che non è una cosa, diciamo, economica da fare, però è una soddisfazione, perché passo passo a passo ti monti il tuo modello. Quindi quello che io penso è semplicemente la mia soddisfazione in questo caso. È un modello di prestigio, di solito questo tipo di modelli qua o sono fatti costruiti dalla, i pezzi per farli, sono fatti dalla Altaia, oppure sono fatti dalla Premium Classics. In questo caso credo si tratti, devo ancora indagare sulla cosa, ma credo si tratti proprio della Premium Classics. Quindi, vediamo un po' che cosa c'è stato nella prima spedizione. Come vi dicevo, sono in abbonamento, quindi la prima spedizione è composta da tre numeri e di conseguenza tre pacchettini con i pezzi. Un secondo che torno. non solo nel primo numero c'era, come dire, questo, cioè il piano dell'opera, c'era questo, cioè il DVD, che adesso, dicendole un po' così alla burlona, il DVD è un di cui è un piacere vederlo, però, voglio dire, bastava che ti facessero collegare a una sessione privata del loro sito internet, ti facevano scaricare i video, oppure li mettevano liberamente online. Comunque, fa molto piacere perché i video sono veramente fatti bene e meritano di essere visti. Il raccoglietore, molto molto bello, il cartone pressato, ha due anelli con, chiaramente, i fascicoli. Ora, li estraiamo da qui perché sennò sarebbe molto scomodo farveli vedere. Quindi, andiamo a fare un po' di click, estrazione. Allora, eccolo qua, primo fascicolo, dove c'è chiaramente un po' di, ci sono un po' di immagini, un po' di storia del grande Ferruccio, Lamborghini, chiaramente, c'è un'immagine emblematica di lui, è quella qua che tiene in mano il modellino della sua Miura, chissà che fine ha fatto questo modellino, vorrei tanto saperlo. Dopodiché c'è un'altra foto molto interessante, dove lui, praticamente, posa con due sue creazioni, la Jarama e un trattore, uno dei suoi Lamborghini. Va bene, un po' di nostalgia, un momento nostalgia ci stava, poi c'è la presentazione della Miura di Rod Stewart e poi si comincia con il modello vero e proprio. Guardate qui, puntate qui l'occhio. Questo è il meraviglioso motore della Miura, che verrà riprodotto nel modello di sé per sé. Quindi qua, passo passo, ti viene spiegato esattamente come montarti il modellino. Ti fanno vedere i pezzi che ci sono in questa pagina e poi in tutto il resto ti spiegano come andare a posizionare tutti i pezzi che praticamente ci sono. In fondo ti dicono quali saranno, come di consueto, quali saranno i prossimi argomenti qui sulla sinistra e poi sulla destra ti fanno vedere quali saranno i prossimi pezzi o i prossimi attrezzi che ti daranno per completare la Miura. Anche qui, numero due, sempre un po' di storia, un po' di auto, un po' di trattori, tutta la roba ovviamente Miura e chiaramente quello che ci interessa, maggiormente non che il resto sia non interessante, ci mancherebbe anzi tanta roba. Gli articoli sono scritti anche molto bene, ma qui di fatto è il momento clou dove si va proprio a mettere mano ai pezzi che trovi all'interno di ogni fascicolo e si comincia come dire a montare. Qui ci si sta dedicando alla portiera di sinistra e nel terzo fascicolo sono arrivati anche un sedile, il cruscotto con la strumentazione e così via. Infatti se andiamo a sbirciare nel terzo fascicolo, oltre come di consueto, storia, altre Lamborghini, altre macchine, perché non c'è solo la Miura, ti presentano anche tutte le altre automobili della Lamborghini e chiaramente c'è poi la parte finale dove si va a parlare di come montare, come vi dicevo, il cruscotto, come conservare i pezzi che poi comunque tu dovrai tenere da parte perché l'auto non è ancora pronta, non hai un posto dove andare a inserirli all'interno del modello eccetera eccetera. Interessante perché in questo fascicolo dove si monta il cruscotto si monta anche il contachilometro, il tachimetro. Noto che quel pezzo lì è trasparente, quindi la mia domanda è, non è specificato, diciamo che si intravede un po' nei video, ma credo che il cruscotto sia proprio totalmente illuminato e quindi secondo me sarebbe tanto bello da vedere anche con la penombra o con la luce di cortesia che dicono ci sia, quindi non vedo l'ora di arrivare al punto di vedere questo effetto luminoso. Quindi quello che farò adesso è andare a seguire passo passo le istruzioni per montare i primi tre numeri. Chiaramente non faccio come i tutorial che vedete online, ovvero che ti fanno vedere come fanno a montare tutte quante le cose, ve le faccio vedere già montate, nel senso che vi faccio apprezzare i pezzi. In questo caso questo è quello che ho trovato nel primo numero, eccolo qua, quindi c'è la portiera di sinistra, c'è il volante, il logo delle Lamborghini e il logo della Miura da inserire nel retro, praticamente dalla parte dietro del bagagliaio dell'automobile, un altro loghetto da mettere sul volante e chiaramente ci sono altre due cosine interessanti quali la maniglia e la serratura da inserire proprio qui a questa altezza qua che vedete. Si intravede uno dei tre buchi praticamente dove noi agiremo poi con gli accessori. Questo il primo, poi posso arrivare, eccomi! Quanto è bello sto video artigianale senza effetti, senza niente, apprezzeranno quelli che sono appassionati come me. Allora eccolo qua, il secondo numero con il pneumatico e chiaramente il cerchione, il montante più il vetro sempre per la portiera di sinistra, ti danno anche un cacciavite per montarti la macchina, quindi ciò significa che con solo questo cacciavite, un po' come lo fu per altri modelli della D'Agostini o della Shette, solo questo cacciavite ti basta per farti il modello. Ti daranno anche più avanti nel 4 o nel 5, non ricordo bene, anche la pinzetta, quella ti servirà più che altro per posizionare i pezzi più piccoli o le viti fin tanto che devi avvitarle piuttosto che le decal, quindi le decalcomanie che vanno ad imitare il logo dell'automobile piuttosto che il nome e così via. Quindi tanta roba, poi c'è un sacchettino e questo qua praticamente contiene le vitine per montare questi pezzi. Ultimo, ma non ultimo, questo ambaradà, bello grande, ah che roba. Quindi c'è il cruscotto, il tachimetro e il contachilometri, due vetrini che sembrano due lenti a contatto usate, che vanno inseriti praticamente su questi tachimetri qua, su tutta la strumentazione. Vedete questi due, sembrano due tubi, due scappamenti. In realtà sono il copritachimetro e il copricontachilometri che vanno appunto montati su questa parte, diciamo, del modello. Poi da tenere da parte c'è il bellissimo sedile, una bellissima riproduzione del sedile dell'automobile e qui ci sono delle altre vitine che chiaramente le utilizzeremo per questo numero. Bene, allora ci vediamo tra poco quando vi farò vedere tutti quanti i pezzi montati. Eccoci qua, quindi adesso ho completato la costruzione, il montaggio dei tre numeri. Eccolo qua, allora la porta, come vi dicevo, la porta sinistra con il montante, il vetro montato, la serratura e la maniglia, quelle qua che li potete vedere anche lateralmente. Quelli qua, tutti quanti montati. Aspetteremo ovviamente più numeri per avere più pezzi, per essere diciamo più particolareggiati sotto questo punto di vista. Vi faccio vedere il pneumatico, bellissimo con tanto di cerchione, ferro, molto bello. Pneumatico Pirelli, meraviglia di oggetto, veramente fantastico. E poi infine la prima parte del cruscotto con il tachimetro, il contachilometri e chiaramente le presine di aria, eccole qua, presa d'aria 1, presa d'aria 2. Tutto quanto ricoperto in gomma, quindi molto bello anche al tatto da vedere. Qui ci sarà il vano porta oggetti e qua ovviamente ci sarà il piantone con la scatola dello sterzo, con ovviamente l'asta che governerà lo sterzo delle ruote. L'ultimo pezzo che vi voglio far vedere, eccolo qui, è il sedile. Anche questo è tutto ricoperto in gomma, molto bello. Ovviamente andrà agganciato con due viti al telaio e insomma andremo avanti con i numeri, giusto per capire, per vedere come verrà questo fantastico modello. Allora, due cose al volo. Vi faccio vedere un po' di cavolatine. Mi sono avanzati chiaramente A e B, le piccole vitine che andranno conservate e utilizzate più avanti. E in buona sostanza c'è anche qui un bel volantino meraviglioso, tre razze sportivo, al quale qui al centro andrà applicato il, come dire, il logo della Lamborghini ma soprattutto, eccolo qua, il pezzo principale che sembra praticamente quello del clacson sul volante. Inoltre in uno dei numeri mi hanno dato anche il cacciavite, come vi dicevo, per completare il modello. Quindi questo sarà l'unico strumento che adopererò per la costruzione, oltre chiaramente alle sempre fidate pinzette che non devono mai mancare nella borsetta del buon modellista. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo nelle prossime puntate di questo viaggio alla costruzione della Miura della Ascetta Scala 1-8. Grazie a tutti, e buona serata. Ciao da Cesco!